Nonostante l'intensificazione dei controlli della Polizia di Stato sui soggetti che si trovano agli arresti domiciliari o che sono sottoposti alle altre misure limitative della libertà personale, sono ancora numerosi i casi di violazione di tali divieti. L'impegno degli uffici operativi della Questura Retusea e dei commissariati della provincia è costante nella contrastare tali gravi violazioni. Ogni violazione riscontrata dalla Polizia di Stato è sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria per le opportune determinazioni. Gli agenti hanno eseguito un aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 33 anni, il quale è stato tradotto in carcere. Tale determinazione è stata presa a seguito delle numerose segnalazioni all'autorità giudiziaria da parte della Polizia che più volte ha riscontrato l'assenza del soggetto ai controlli. Inoltre, gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto un siracusano di 43 anni, sorpreso nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari.